La prima Roma di Daniele Rossi formato europeo è una Roma che pareggia in uno stadio difficile come quello del Feyenoord e riesce a strappare un punto ma soprattutto a fornire una grande prima prestazione europea. Questo debutto per la Roma nella fase finale di questa stagione dell'Europa League è un debutto positivo. Dobbiamo ogni tanto anche prendere il positivo da quello che ci regalano le partite giallorosse. È una Roma che sicuramente deve migliorare dal punto di vista difensivo perché il gol subito sul finire del primo tempo è un errore gravissimo una disattenzione che non ti puoi permettere a certi livelli non europei, non romanisti, a certi livelli calcistici perché lasciare così i giocatori poi nemmeno altissimi come Paxao liberi di colpire di testa sono regali inutili fatti alle squadre avversarie. C'è tanto rammarico per quel gol subito perché poi il Feyenoord non ha avuto grandi occasioni, sì un palo nel finale, nel tour de force finale quando la Roma poi si è chiusa dopo aver trovato il gol del pareggio, in modo anche abbastanza fortunoso perché un Lukaku quasi di girata, in girata, di spalla dopo che aveva avuto occasioni più nitide è riuscito a trovare e a guantare il gol del pareggio. Una Roma che poi si è chiusa e ha concesso leggermente qualcosina in più al Feyenoord. Ma è una Roma che nel primo tempo ha convinto, ha preso anche una traversa con Paredes, una Roma che ha giocato con un ritmo buono. Forse oggi è mancata precisione nei passaggi, specialmente nella prima frazione, specialmente dalle punte di diamante, giallorosse come Pellegrini, di Bala molti tocchi del pallone però manca quella precisione, specialmente nei 15-20 metri finali che poi ti porta a concludere le azioni pericolosamente. Andiamo a vedere le pagelle, partirei da quella di Daniele De Rossi, ormai come di consueto. Un 6,5, una prima prestazione, ho visto prime prestazioni europee, prime gare europee, prime esperienze europee nettamente peggiori. Un primo tempo di grande fattura, un secondo tempo in cui il pareggio viene agguantato, la Roma reagisce e sotto il punto di vista della personalità del gioco risponde presente. Svilare in porta era un 6 fino all'ottantesimo perché aveva giocato una buona ottantina di minuti garantendo quella sicurezza che tante volte lo stesso Rui Patrizio non riesce a garantire ma poi gli interventi nel finale regalano quel mezzo voto in più al portiere serbo portoghese, 6,5. In difesa tanta, troppa fatica per Diego Llorente, giornata no per lo spagnolo che si prende un'insufficienza, 5,6. Invece per Mancini il giusto agonismo di queste occasioni e poche imprecisioni. Carstop sulla fascia un 5,5, poco incisivo in avanti, qualche disattenzione difensiva nel primo tempo, lasciare troppo spazio, può essere pericoloso, molto pericoloso per squadre come questa, come il Feyenoord, molto veloci, specialmente in ripartenza e in costruzione. Spinazzola, 6,5. Abbiamo ritrovato il miglior Spinazzola. Anni luce da quello sotto la gestione di Murigno, uno Spinazzola puntuale, uno Spinazzola che corre, oggettivamente già molto di più di quello che faceva prima, corre, lo fa con criterio e regala azioni e spunti molto interessanti. A centrocampo, Paredes, 6,5, si abbassa anche a volte in cabina di regia, è fondamentale, cruciale per il gioco giallorosso. L'assenza di Cristante viene rimpiazzata da Edoardo Bove, il solito Bove in spirito di sacrificio, onnisciente, a volte, sì, in troppo onnisciente, però la sua partita, senza grandi problematiche, si conclude con una sufficienza 6, anche per lui, sì, per il capitano Pellegrini, che come abbiamo detto prima, tocca tanti palloni, però è poco preciso, specialmente nello stretto, specialmente nei cross, però siamo sulla buona scia per recuperare il top, anche dal nostro capitano, 6,5 per Dybala, ossigeno puro per il gioco romanista, per il gioco giallorosso, anche da lui mi aspetto più precisione, però cosa va detto a Dybala? sempre ossigeno della Roma, Lukaku, là davanti, una prestazione, non delle migliori, una prestazione discreta, però poi quel gol, i gol contano, i gol in queste partite pesano il doppio, pesano il triplo, e così, influiscono, anche sui voti, 6,5, non una grande partita, ma il gol, alza il voto, subentrano il Ceraugli, una sufficienza, peggio, di Zaleschi, che fa una partita orribile, forse l'unica nota davvero negativa, io non so se perché De Rossi lo vuole adattare in avanti, ma già prima con Mourinho sembrava questa stagione abbastanza spaisato, è un Zaleschi che se io penso arrivavano offerte da 50 milioni, 40 milioni, mi vengono davvero i brividi, un bambino il primo giorno di scuola mentre cerca la sua classe, oggi sembrava, imbarazzante, 4,5 nel finale, subentrano anche Sialic, Cristante, il debutto europeo per Tommaso Baldanzi, il nuovo acquisto giallorosso, nulla possono alla causa se non a difendere la fortezza, il fortino giallorosso, domenica alle 18 con il Frosinone, un appuntamento dopo la sconfitta con l'Inter, da non mancare e poi all'Olimpico per portare a casa questi ottavi di finale di Europa League giovedì prossimo alle 21 per sognare un'altra gara come quella dell'anno scorso davanti ai 70 mila dello stadio olimpico.